fino ad ora abbiamo utilizzato regolarmente istruzioni di input e di output all'interno dei nostri script ma adesso è giunto il momento di approfondire ulteriormente la nostra conoscenza riguardo queste operazioni data la complessità non spulceremo proprio a fondo a fondo l'argomento bensì ci limiteremo ad apprendere le conoscenze necessarie per riuscire a gestire correttamente gran parte dei programmi che fanno uso di queste interfacce buona visione le interazioni tra il nostro computer e il mondo esterno sono gestite attraverso tre flussi dati ovvero standard input anche detto stdin standard output conosciuto anche come stdout e standard error chiamato anche stdin si usa il nome standard streams quando si vuol far riferimento all'insieme composto da questi tre canali per ora immaginate la vostra tastiera come standard input e il vostro monitor come standard output il perl ci agevola l'utilizzo del canale di standard input mettendoci a disposizione l'operatore stdin ma se vi dicessi che in realtà il nostro operatore di standard input non esiste in quanto entità bensì è il risultato di una combinazione di elementi difatti l'operatore stdin può essere sezionato in due parti ottenendo da una parte il diamond operator specializzato nelle operazioni in line e stdin che non è nient'altro che il felendo di default che si occupa di gestire per l'appunto lo stream di input la combinazione tra questi due elementi genera l'operatore stdin tra parentesi angolari in quanto il diamond operator si prepara a ricevere dei dati e da dove dallo stream di input che abbiamo specificato tramite il felendo all'interno delle parentesi angolari dell'operatore stesso ma a cosa serve di preciso questo diamond operator e che cosa è un felendo tranquilli andiamo per gradi e facciamo un po di chiarezza il diamond operator è quindi un operatore che ci consente di leggere degli input quando non indichiamo esplicitamente l'utilizzo dello standard input all'interno delle parentesi angolari va a cercare dei file da processare tra gli elementi passati come argomento gli argomenti sono dei parametri o elementi supplementari che vengono forniti al programma quando quest'ultimo viene eseguito nell'esempio ho creato un ciclo while che stampa in output il contenuto della perl favorite default attraverso la funzione print ogni qualvolta che il diamond operator trova un file o il contenuto di un file da processare nella finestra a fianco dove eseguo lo script richiamando l'interprete potrete notare gli argomenti passati al programma ovvero il file 1 il file 2 e il file 3 che sono file realmente esistenti che si trovano nella solita directory dello script questi file non contengono altro che un flag di inizio e fine file più un nome quindi quando andremo ad eseguire lo script avremo in output il contenuto di questi tre file in quanto il diamond operator passa al file successivo una volta finito di processare l'ultimo elemento fermandosi solamente quando non vi sono più elementi da processare o in caso di argomento non valido ma eseguiamo lo script e abbiamo in output tutti e tre i file nel file 1 abbiamo antonio guardiamo se corrisponde al vero inizio file 1 antonio antonio tutto torna nel file 2 abbiamo carlo anche qua perfetto e nel file 3 abbiamo francesco anche qua tutto a posto funziona tutto a meraviglia i dati processati dal diamond operator vengono letti riga per riga e per mostrarvi meglio il modus operandi di questo operatore ho modificato lo script precedente aggiungendo la funzione slip la funzione slip come facile intuire sospende momentaneamente l'esecuzione dello script per x secondi passati come parametro quando eseguiremo lo script quindi verrà stampato riga per riga l'intero contenuto del file mio file che ovviamente si trova nella solita directory dello script con in questo caso tre secondi di sospensione tra un output e l'altro ma guardiamo lo script in esecuzione riga 1 tre secondi riga 2 altri tre secondi riga 3 e poi altri tre secondi fine dell'esecuzione dello script poiché dopo riga 3 non vi è nessun altro elemento il diamond operator inoltre tiene conto delle linee processate utilizzando la variabile speciale dollaro punto questa particolare variabile viene utilizzata come variabile contatore e quindi incrementata ad ogni lettura ho modificato lo script aggiungendo questa variabile all'output quindi rieseguiamo il tutto per vedere il risultato come vedete stampa 1 trattino riga 1 questo 1 è ciò che è contenuto alla prima iterazione dentro la variabile speciale dollaro punto dopodiché 2 alla riga 2 e 3 alla riga 3 ma non fate l'errore di sopravvalutare troppo l'interprete infatti seppur apparentemente straordinario e ultra accessoriato il diamond operator non è intelligente o almeno non abbastanza intelligente da capire dove termina un file e dove inizia un altro infatti se si stampa in output il contenuto di più file con il contatore di linea annesso il contatore dollaro punto non viene risettato una volta terminata l'elaborazione del file corrente bensì continua a dritto il suo incremento fino all'ultimo argomento se vogliamo far capire al diamond operator dove termina un file bisogna sporcarci un po' le mani guardiamo l'esempio per farci un'idea sul come rendere un pelino più sveglio il nostro operatore innanzitutto ho creato la variabile fine che verrà utilizzata come flag ovvero potrà assumere solamente due valori 0 o false se non siamo giunti alla fine del file o 1 quindi true se invece siamo arrivati al termine dopodiché ho creato un ciclo while che ad ogni ripetizione cerca di assegnare alla variabile linea lo stream di dati processati dal diamond operator fin tanto che il diamond operator troverà qualcosa da processare l'assegnamento andrà a buon fine quindi si procederà con l'esecuzione del ciclo se invece il diamond operator non avrà più nulla da processare l'assegnamento fallirà e usciremo dal ciclo all'interno troviamo una struttura if else che esegue svariati controlli ovvero se la nostra variabile flag fine è true si resetta la variabile contatore dollaro punto a zero dopodiché si setta nuovamente il flag fine su false in quanto alla prossima ripetizione ci troveremo all'inizio del nuovo file se la variabile linea è uguale a new line si prosegue con l'esecuzione del ciclo senza fare nulla se invece è uguale a doppio asterisco space fine space doppio asterisco new line si setta la variabile flag fine su true in quanto arrivati al capolinea stampando comunque l'ultima riga del file corrente in questo modo alla prossima ripetizione scatterà immediatamente il primo controllo sulla variabile flag resettando il contatore dollaro punto in tutti gli altri casi si stampa tranquillamente la variabile contatore dollaro punto seguita dalla variabile linea guardiamo lo script in esecuzione guardate che meraviglia è tutto stampato correttamente la prima riga nel primo file la seconda riga del primo file la terza riga del primo file e così via ovviamente l'efficacia di questo metodo è strettamente collegata alla formattazione dei file processati in quanto basta cambiare la parte finale di uno di essi per sballare il tutto e con ciò eccovi anche spiegato il motivo per il quale i file di sistema non so se vi è mai capitato di leggere che so un file di log sono generalmente formattati seguendo una linea ben definita per facilitare la vita a quei poveri cristi che dovranno maneggiarli consentendogli grazie allo stile di formattazione utilizzato di poterli elaborare con più facilità voglio portarvi ancora un esempio per mostrarvi la comodità e la potenza del diamond operator in questo genere di operazioni ho creato un file chiamato users.log dove è presente una lista molto semplificata di utenti che hanno effettuato il login in giornata nello script ho creato una variabile contatore per ogni utente che ci servirà per l'appunto a tenere il conteggio dei login effettuati per ogni utente dopodiché un ciclo while nel quale ad ogni ripetizione assegno alla variabile user ciò che viene processato dal diamond operator al suo interno effetto dei controlli multipli sulla variabile user per verificare se corrisponde ad antonio carlo luca gianni o mario a seconda della corrispondenza incremento il contatore utente corrispondente infine stampo in output il valore finale del log per ogni utente guardiamo lo script in esecuzione prendiamo ad esempio i log di antonio che secondo il nostro script antonio si è loggato otto volte vediamo se ciò corrisponde al vero guardando direttamente il nostro file users punto log e troviamo antonio una due tre quattro cinque sei sette e otto volte funziona tutta meraviglia ora immaginatevi quanto ciò possa semplificare la vita su un file di log di notevoli dimensioni e centinaia di volte più incasinato di questo e poi riflettete anche sulla facilità con la quale si riesce a manipolare una mole ingente di dati ora capite come mai il perl era ed è tuttora l'asso nella manica di molti sistemisti bene detto ciò terminerei la lezione in caso di dubbi o perplessità vi invito come al solito a lasciare un commento quindi non mi resta che salutarvi e ci vediamo alla prossima